Stop ai buoni scuola per gli istituti privati. A chiederlo è una raccolta di firme lanciata da Rifondazione Comunista, dall'Associazione Non Uno Di Meno e da alcune sigle sindacali tra cui anche i lavoratori della conoscenza di CGL. Davanti al Pirellone questa mattina è andato in scena il presidio a favore dell'iniziativa che ha raccolto già 3.000 adesioni. Secondo i promotori il sussidio ha permesso di girare dalle tasche dei contribuenti alle scuole private l'80% delle risorse dedicate dalla Lombardia al diritto allo studio. Fondamentale in questi giorni è appunto ripetere l'articolo 33 della Costituzione per cui non bisogna scordare che la scuola non pubblica può e deve funzionare senza oneri per lo Stato. I promotori spiegano che il buono scuola si configura come un aiuto iniquo a chi ha già a disposizione risorse. Solo il 25% dei beneficiari dichiara un reddito inferiore ai 30.000 euro l'anno. Per questo secondo i promotori in un momento storico segnato dalla crisi sarebbe opportuno utilizzare le risorse a disposizione per potenziare la scuola pubblica gravemente colpita dai tagli. Noi abbiamo sempre fatto questa battaglia ma pensiamo che in questo momento ci sia una particolare sensibilità perché mentre prima solo era una questione di principio giustissima della difesa della Costituzione dell'articolo 33 adesso diventa un problema vitale per le scuole che non hanno più fondi, la scuola pubblica non ha più fondi dopo la riforma Gelmini.